Oikos, colore materia per l'architettura sostenibile, azienda presente sul mercato da oltre 30 anni. Oikos ci divertiamo tutti i giorni a dare materiali, colori al mondo dell'architettura affinché possano con la loro creatività dare una nuova vita ad un progetto e quindi dare un benessere attraverso l'uso dei colori nell'ambiente che progettano ma anche proprio perché noi siamo un'azienda green quindi abbiamo tutti i materiali, tutti i prodotti sostenibili, dare anche un benessere di salute nell'ambiente in cui poi ci si deve vivere dopo aver utilizzato i materiali e anche come ho detto prima con l'uso del colore creare l'atmosfera totale, cromatica e anche salubre proprio perché abbiamo i materiali che provengono da questa ricerca sempre attenta alla sostenibilità. Siamo qui a Dark Marathon, già la terza edizione e fin dall'inizio abbiamo dato la nostra adesione a partecipare perché riteniamo un momento di incontro molto interessante, è un match proprio di scambio diretto dove ci si può stringere la mano con gli architetti, quindi con i progettisti, con i protagonisti poi che devono utilizzare i materiali per potergli spiegare, per poter vedere quelli che sono i loro progetti perché c'è una carellata di oltre 40 progetti che vengono presentati e quindi avere un dialogo diretto col mondo della progettazione. Ritengo questa formula estremamente interessante proprio perché ci mette a confronto immediato. Poi è un altro aspetto importantissimo, la parte internazionale su cui noi puntiamo molto proprio perché ci sono tanti studi che vengono un po' da tutte le parti del mondo. Quindi ritengo che Dark Marathon sia una tappa per noi importante nelle diverse iniziative che facciamo per un dialogo diretto, un confronto diretto, uno scambio diretto con il mondo della progettazione.